abbiamo 200 agenzie in tutta italia e abbiamo deciso di incrementare i nostri organici per questo stiamo cercando 450 nuovi agenti no non è necessario avere esperienza abbiamo ideato degli step formativi che ti consentono di imparare questa attività partendo da zero dopo una fase di colloqui inizia lo stage durante il quale avrai un tutor imparerai le attività lavorative farai corsi di formazione ti daremo anche il corso per diventare agente di commercio perché quello ti sarà utile perché se alla fine del percorso sarai selezionato potrai diventare immediatamente agente di commercio segnalatore l'agente immobiliare dà un servizio a chi compra casa ea chi vende casa all'acquirente va a cercare casa al venditore deve andare a trovare l'acquirente giusto lavorerai con le persone starei sempre in contatto con persone devi essere una persona relazionale estremamente estroversa e contestualmente avere una grande capacità di ascolto essere intraprendente curioso determinato queste sono le caratteristiche che faranno di te un agente immobiliare devi conoscere il territorio dove lavori devi sviluppare relazioni noi porta a porta non vendiamo nulla ma dobbiamo conoscere condomini e condomini in più avrai un database di acquirenti e venditori con cui potrai entrare in relazione non ci sono orari fissi i nostri uffici sono aperti dalle 9 alle 20 dal lunedì al venerdì e il sabato dalle 9 alle 13 ma andiamo sempre in funzione delle esigenze dei nostri clienti non c'è una seconda occasione di fare una buona impressione per questo è importante essere eleganti per la donna tagliere per l'uomo giacca e cravatta sì dopo lo stage dovrai aprire partita iva oggi la partita iva ha grandi agevolazioni fiscali e una tassazione molto ridotta in più ti supporteremo con il bonus inizio attività ci sono degli incentivi che ti consentono di raggiungere attraverso le tue attività lavorative i 1000 euro mensili e in più ci saranno le provvigioni di segnalazione il tuo primo obiettivo sarà quello di diventare agente immobiliare infatti nel momento in cui aprire partita iva ti pagheremo noi il corso per diventare agente immobiliare poi dovrai ambire a diventare un agente immobiliare esperto con alte provvigioni potrai anche ambire successivamente ad essere un sales manager un team manager oppure ad aprire la tua agenzia avendo una base di finanziamento con provvigioni al 70 per cento siamo da 40 anni sul mercato siamo in costante evoluzione siamo tradizione siamo futuro